ciao a tutti oggi primo maggio 2021 buon primo maggio a tutti e per gli amici sardi buon santefisio siamo a Suboe tempo di potatura verde o il mamonju dal sardo il mamae quindi togliere i germogli che non ci interessano andiamo a vedere iniziamo con un caso molto semplice allora questo è il cordone che abbiamo portato quest'anno a marzo dobbiamo togliere tutti i germogli che non ci interessano allora punti vegetativi 1 e 2 tutto il resto via questi due no questo no questo qua sotto no qua sotto non c'è nient'altro vediamo qui cosa c'è vediamo se ci sono dei germogli ecco per esempio questo è un germoglio che viene dal legno vecchio e lo elimino perché mi interessano lasciare uno e due germogli questo è un doppio germoglio quindi lo elimino elimino normalmente elimino quello più esterno in realtà questo qua è sull'asse quindi posso togliere questo qua ok infine qua abbiamo vediamo un po allora ecco qua questo lo eliminiamo questo lo eliminiamo dicevo qua ce n'è un altro qua sotto vabbè smetto a fuoco che elimino qua c'è un doppio germoglio vedete uno e due vediamo un po sono equivalenti mi tengo mi tengo questo qua qua c'è un doppio germoglio e quindi lo elimino e la potatura verde in questo caso rimetto a fuoco è effettuato altro caso qua il germogliamento non è non è uniforme ma non succede niente è stata una stagione un po strana perché fino all'altro giorno stava facendo un freddo cane quindi normalmente poi qua siamo in alto siamo a 500 metri sul livello del mare quindi ha fatto piuttosto freddo corso lei per cui me lo aspetto comunque insomma non è niente di niente di grave allora punti vegetativi 1 2 3 e 4 come vedete sono germogliati in maniera diversa ma non importa eliminiamo quello che non ci interessa via 12 qua dietro 34 togliamo qua sotto non c'è nulla eccolo qua questo lo eliminiamo che non serve questo eliminato che non serve questo viene questo viene questo viene da legno vecchio lo eliminiamo idem come sopra vediamo qua questo questo il vetta il moncherino lasciato uno e due germogli antico stato si sta sviluppando un secondo un doppio germoglio non so se lo vedete si vede si si vede quindi questo è quello di mio ok è questo quello di mio e infine qua moncherino quindi lascio questi germogli questo qua dietro lo elimino qua stanno lasciando dei doppi germogli quindi uno lo elimino e uno lo elimino e anche qua dietro scoperto ecco qua tanato eliminato quindi in questo caso anche in questo caso potatura verde effettuata facilissimo un altro caso di potatura verde vedete che in questo caso anche rispetto ad altre piante abbiamo un germogliamento minore delle piante il petto è l'annata un po strana comunque va bene non succede niente la vediamo un po qua se si elimina abbiamo eliminato una gemma ecco eccolo qua sotto questo lo eliminiamo allora vediamo qui si qua c'è questo da eliminare questo questo che viene dal legno vecchio questo il moncherino lasciato quindi abbiamo una e due gemme questo lo eliminiamo legno vecchio sul fusto abbiamo qualche cosa rispetto a altri casi questo lo eliminiamo questi eliminiamo i germogli sono molto ottene e poi tra l'altro anche facendo un molta è abbastanza umido il tempo ecco qua legno vecchio via doppio germoglio via rimangono uno e due germogli sul moncherino ed è un qua moncherino uno o due germogli eccolo qua potato da verde effettuato ovviamente non può mancare la potatura del cordone a otto punti vegetativi secondo il insomma il metodo classico del dei punti vegetativi solo nella parte superiore vediamo un po allora non cambia naturalmente la questione della potatura verde eccolo qua partendo da questo castelletto da questo castelletto eliminiamo quello che c'è nel legno vecchio abbiamo moncherino una e due gemme qua dietro non abbiamo nulla vediamo qua è stato castelletto legno del germogli legno vecchio eliminiamo altro castelletto questo viene dal legno dal legno vecchio quindi metto a fuoco aspettate un attimo questo viene dal legno vecchio quindi lo eliminiamo e rimane il legno nuovo in questo castelletto abbiamo solo germogli sul sul legno nuovo in questo qua invece abbiamo già un germoglietto del legno vecchio che eliminiamo vediamo cos'altro c'è qua abbiamo un bel doppio germoglio normalmente si elimina il il più quello più interno in questo caso però un po più vigoroso quindi preferisco lasciare questo eliminare questo qua ok questo viene proviene da qua sotto quindi lo eliminiamo non ci sta a fare nulla idem come sopra questo che viene da sotto quindi lo eliminiamo questo punto vegetativo abbiamo un ecco vedete questo qua abbiamo un castello il moncherino abbiamo un germoglio doppio che è questo che eliminiamo che più interno che è altro punto vegetativo abbiamo ecco qua un germoglio doppio in questo caso questo lo elimino perché sta andando verso l'esterno altro punto vegetativo abbiamo vedete in questo caso 123 con un germoglio doppio questo lo elimino questo viene dal legno vecchio e quindi anche la potatura verde del nostro amato cordone a 8 punti vegetativi è fatta facendo la potatura verde mi imbatto anche in casi interessanti che valgono la pena essere analizzati allora in questo caso che è un cordone che io ho rimpostato perché ha avuto dei problemi quindi l'avevo tagliato qua e poi da qua avevo lasciato due gemme che poi sono ripartite come vedete lo sto rimpostando abbiamo avuto un problema perché con la tecnica dell'allungo diceva va bene normalmente io piego il il tralcio al filo di banchina e incomincio a considerare la prima gemma a partire dalla dalla più prossima al filo di banchina che era questo qua che era questa cerco di inquadrare ok che era questa acqua sì adesso non so perché mi sta dando non me lo sta dando non mi sta dando eccola qua che era questa negli anni scorsi l'anno scorso in particolare questa qua non era germogliata dicevo mannaggia a me mannaggia che si fa vabbè mi allevo un altro punto vegetativo prima non è corretto perché normalmente questo qua non dovrebbe essere allevato però in mancanza di un altro l'ho lasciato lo stesso questa è una germogliata poi c'è un altro germoglio qui ok e poi qua c'è la parte dell'allungo quindi sto lasciando e poi ho deciso di lasciare una sopra una sopra e una sotto per sfruttare tutto questo braccio al 100 per cento quindi parte superiore e parte inferiore trovo che mi è spuntata anche questa qua quindi adesso questa me la levo bene e quando questa qua sarà sviluppata vedrò durante il germogliamento se è sufficientemente vigorosa se produce un tralcio come si deve questa qua poi la eliminerò naturalmente dovrò stare attento a lasciare adeguato legno di rispetto perché lo sappiamo tutti può essere un problema però perché ho voluto far vedere questo per dire che finché c'è gemma c'è speranza prima o poi la gemma cacerà un germoglio e quindi insomma mi faceva piacere fare vedere appunto questo questo video questa esperienza dai facciamo l'ultimo caso di potatura vera tanto sono ormai chiarissimo come è fatto ecco li parlate a dire perché si eliminano i germogli sul legno vecchio perché tendenzialmente non sono produttivi quindi succhiano linfa alla pianta in maniera poco in maniera non utile e quindi devono essere eliminati la vita produce sul legno nuovo quindi legno di un anno ok quindi normalmente quelle invece le i polloni appunto i succhioni che vengono dal legno vecchio non sono non sono produttive per questo motivo devono essere eliminati quindi vediamo un po dai allora vediamo qua e qua abbiamo di tutto allora questo il moncherino legno vecchio via legno vecchio via qua sotto via questo questo aspetto che inquadro bene questo via questo è un doppio germoglio vedete ecco qua moncherino con le i germogli propri qua c'è un altro qua se eliminiamo non c'è altro questo ecco questo punto vegetativo legno vecchio via legno vecchio via qua c'è un altro punto legno vecchio via questo lo stesso vedete qua è da un da un è uscito il germoglio dal legno vecchio via ed andava qua questo via e qua non abbiamo eccolo qua tanato questo qua eliminato anche questo caso vedete sono la potatura è fatta tra l'altro vedete che si cominciano già a vedere inquadro bene c'è quindi cosa è bene ok vedete ci sono già le infiorescenze 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 naturalmente almeno nel mio come vedete lasciato due quattro sei otto germogli otto germogli che per una fertilità del cannonao stimata intorno all'1 e 2 1 e 4 mi tengo basso diciamo 1 e 2 quindi per otto germogli devo avere 9,6 grappoli fertilità reale naturalmente diciamo 10 10 gabbio da questa pianta va benissimo ok il vigore buono quindi ce la facciamo e quindi insomma dai la potatura effettuata poi adesso faremo anche un trattamento adesso ve lo dico dai insomma la potatura verde mai si è capito com'è quindi non è difficile dicevo prima che adesso faremo un trattamento preventivo siccome è prevista umidità e i germogli stanno già crescendo io per non farmi trovare scoperto come l'anno scorso quest'anno adotterò una nuova diciamo una nuova un'aggiunta dal trattamento solito che faccio io faccio trattamenti con potiglia bordolese e zolfo quest'anno aggiungo le azeolite la zeolite che mi aiuterà a stare un po' più un po' più tranquillo poi vi dirò perché quindi insomma dai potatura verde effettuata e quindi aspettiamo il germogliamento alla prossima ciao prepariamo la medicina che dobbiamo dare in vigna utilizzando zolfo in specifica che per le biologiche con un dosaggio di 150 300 grammi per 100 litri d'acqua per ettolitro diciamo che di un eserolo circa 200 poltiglia bordolese venduta come concime che altro che non esso il fatto di rame neutralizzato con calcio idrata per una quantità di allora vite ok vite sono circa 250 500 grammi per ettolitro ne userò circa 400 diciamo la zeolite cubana che è un corroborante per 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 la vite non solo ma poi c'è proprietà colloidali e quindi permetterà alla alla medicina di aderire meglio alle foglie è una una specie di farina fossile sostanzialmente e anche la caratteristica di come dire ha delle proprietà igroscopiche cioè assorbe l'umidità quindi nel caso in cui la zeolite venga mischiata con altre sostanze queste rimangono attaccate alla la foglia della della vite è una pioggia non eccessiva non di lava perché la zeolite appunto in virtù delle proprietà igroscopiche assorbe parte del dell'umidità e quindi questo è insomma uno dei motivi che motivo principale per per cui la utilizziamo questa è la pompa automatica batteria di litio della usonia comprata da poco quindi adesso la inauguriamo eccoci qua sembra che stiamo arrivando su andando su marte dovevo fare appunto il trattamento primo trattamento per la vigna il trattamento che facciamo e per diciamo cosiddetto le biologiche sto usando soltanto puntiglia bordolese come ho fatto vedere la preparazione puntiglia bordolese zolfo e zeolite la macchinetta è una macchinetta automatica molto comoda come si vede quindi insomma si può partire con il con il trattamento vediamo vi faccio vedere solo una cosa tanto per me che sia molto utile vedere però insomma per capire un pochettino come funziona praticamente la macchinetta vai automatico quando quando si apre la l'interruttore questo qua parte nebulizza molto bene quindi insomma cerco di fare devo stare attento perché non voglio non voglio andare contro vento ovviamente non ce la faccio a fare il video con il con la lancia quindi insomma facciamo la questa medicazione ti ricordo che siamo a primo maggio 2021 la medicazione preventiva con la zeolite serve per appunto per evitare che una pioggia che leggera di la villa la medicina e quindi dai siamo siamo così devo di farci ok non no ci siamo problemi ciao